6.105 favorevole, 6.135 favorevole, 6.137 favorevole, 6.136 favorevole, 6.138 favorevole, 6.139 favorevole, 6.140 favorevole, 6.141 favorevole, 6.126 favorevole, 6.07 favorevole, 6.0102 favorevole, 6.0101 favorevole, 6.0100 favorevole, 6.03 contrario, 6.04 favorevole. No, inammissibile. Anche quello a seguire vada direttamente al 6.01. Anche 6.05 quindi è ammissibile, 6.01 favorevole. Basta. Basta, grazie. Relatore Quaranta. 6.110 favorevole, 6.106 favorevole, 6.107 favorevole, 6.108 contrario, 6.1 favorevole, 6.16 favorevole, 6.109 favorevole, 6.10 favorevole, 6.12 contrario, 6.73 contrario, 6.72 contrario, 6.71 contrario, 6.70 contrario, 6.69 contrario, 6.68 contrario, 6.15 favorevole, 6.111 favorevole, 6.142 favorevole, 6.18 contrario, 6.23, 6.28 contrario, 6.100 favorevole, 6.26 favorevole, 6.24 favorevole, 6.29 favorevole, 6.209 favorevole, 6.104 favorevole, 6.102 favorevole, 6.31 contrario, 6.30 contrario, 6.32 mi rimetto all'aula, 6.37 contrario, 6.32 mi rimetto all'aula, 6.37 contrario, 6.37 contrario, no, 35 c'è prima, 35 contrario, 6.37 contrario, 6.114 favorevole, 6.38 contrario, 6.36 contrario, 6.87 contrario, 6.114 contrario, 6.110 800 favorevole, 6.104 favorevole, 6.104 contrario, 6.42 contrario, 6.40 counter pewnovertedo, 6.3GHzio contrario, 6.142 battaglia come 6.63 favorevole, 6.123 contrario, 6.61 favorevole, 6.124 favorevole, 6.80 favorevole, 6.128 mi rimetto all'aula, 6.76 contrario, 6.75 favorevole, 6.129 favorevole, 6.130 favorevole, 6.143 favorevole, 6.132 favorevole, 6.133 favorevole, 6.105 favorevole, 6.135 favorevole, 6.137 favorevole, 6.136 favorevole, 6.138 favorevole, 6.139 favorevole, 6.140 favorevole, 6.141 favorevole, 6.126 favorevole, 6.107 favorevole, 6.0102 favorevole, 6.0101 favorevole, 6.0100 favorevole, 6.0101 favorevole, basta, basta, finito, 6 chiude così, bene, il Governo, conforme ai redattori di maggioranza, grazie, allora cominciamo colleghi, l'articolo 6, cominciamo con il 6.110, invito a ritiro il parere contatto di Commissione Governo favorevole ai redattori di minoranza, nessuno chiede intervenire, sì, deputato Cerconi, prego. Deputati, per favore, abbassiamo il tono della voce, grazie, molto gentili. Grazie, Presidente. Questo è, diciamo, un articolo centrale in questa proposta di legge che alcuni colleghi, soprattutto quelli di Sinistra Italiana, ritengono una proposta di legge poca data o, diciamo, incompleta rispetto a forse quello che avevano intenzione di fare loro. Grazie. 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 Grazie.